ciao ragazzi bentornati sul mio canale grazie per essere qui ancora una volta con me per un video di unboxing non è un unboxing dove vado ad aprire un pacco ma un video dove vado a creare un pacco per spedirlo a uno youtuber marco valleggi l'ho scoperto da poco un ragazzo davvero in gamba ragazzo è un signore giovane molto in gamba che ama i dispositivi analogici le vecchie tecnologie lui sta lì a riparare mangianastri e lettori a bobine l'ultima volta che l'ho visto stava smanettando con un mini display mini display un mini monitor a tubo catodido così ho deciso di regalarvi alcuni dispositivi che io non uso più iniziando con questo vecchissimo amplificatore normalmente analogico l'ho aperto non al microchip è solo pieno di condensatori e qualche transistor poi pezzo forte è questo lettore della pioneer questo è un multilettore cd con il caricatore a 6 cd e poteva essere anche messo nel lettore di casa così come marco una spazionale analogico un dispositivo di acquisizione con il telecomando una scheda di acquisizione poi un mitico spinner bluetooth con luci un altro dispositivo di acquisizione poi avevo trovato il sistema a telecomando che avevo utilizzato in un video precedente che non uso più magari lui farà farne uso migliore o lo farà esplodere però entrambi i casi voglio il video soprattutto se lo fa esplodere voglio vedere poi c'era qualcos'altro di interessante ho trovato un satellite finder utilissimo questo lo farà esplodere sicuramente ok andiamo a impacchettare il tutto vediamo se ci vanno questi c'è un fusarium ok spero che gli piacciono sicuramente li fa molto piacere l'amplificatore vecchia generazione e questo lettore della pioneer che non so che cosa farne ok vediamo un po se riesco a trovare una scatola un pacco per inboxizzare questo è il primo video di inboxizzazione di tutti i video no italia al mondo ok sono questo bello scatolone avevo già risposto del polistirolo sul mondo iniziamo a mettere il mini collettore pioneer ok l'amplificatore poi va bene il regalo spinner a poi ovviamente a marco va la statuetta commemorativa del suo canale che mi ha fatto divertire tantissimo i suoi video è un vender gold mod con un token una monetina con il luogo del canale di un arco poi avremmo trovato un altro token ma non so che fine ha fatto ok prometto che lo cercherò lo troverò e glielo spedirò continuiamo a caricare le periferiche di acquisizione l'alimentatore questo utilissimo magari marco questo ci farà un v meter per uno dei suoi impianti audio questa mega scheda che la farà la finestra altro dispositivo di acquisizione vecchissima generazione c'è lavoro l'alimentatore c'è lavoro l'alimentatore c'è lavoro nelle luci ok aveva trovato voi questi altri dispositivi di acquisizione che magari vanno abbinati a questo questo posto ok nient'altro ok no nient'altro ok c'è un sacco di cianfrusaglie che voglio diciamo iniziare a non buttare sarebbe un peccato magari consegnate alle mani di qualcuno più esperto di me che ne possa fare buon uso conto su di te Marco mi raccomando non mi deludere fai buon uso di queste cianfrusaglie e se le dovessi fare esplodere voglio il video mi raccomando soprattutto il video dell'esplosione da più angolazione ok ragazzi per il video è tutto grazie per essere rimasti con me fino alla fine di questo video ci vediamo alla prossima ciao